Posso notare molto perché poi abbiamo l'obbligo di fare il massimo per quella che è la professionalità che dobbiamo avere, per quello che sono le cose che ci dobbiamo imporre essendo calciatori che vestono la maglia del Napoli, c'è un valore fondamentale a fare qualsiasi lavoro che è la disciplina che devi avere per il lavoro che fai e noi l'abbiamo sempre fatto vedere e dobbiamo continuare anche per queste ultime partite perché la nostra gente lo merita perché questa società per il lavoro che ha fatto lo merita, per cui si va a riportare il discorso oltre tutti i festeggiamenti su quella che è la cosa più importante, su quello che è lo scorrimento della palla, su quello che è il calcio giocato, che è la cosa che sappiamo fare meglio di tutto.